E' andato tutto bene stasera 8 settembre 2021 in questa partita tra Italia e Lituania partita per le qualificazioni ai mondiali di calcio che ci saranno l'Italia infatti vince, fa ben 5 gol, lituania neanche uno e veramente una partita straordinaria proprio per il nostro paese, per la nostra nazionale di calcio 5 magnifici gol, un poker di gol più un altro gol, potevano essere anche di più secondo me ma purtroppo l'arbitro ne ha annullato qualcuno al segnale è stato Moacca al 11esimo al 24esimo primo tempo, due le fa poi Utkus al 14esimo primo tempo, solo due gol se non erro Raspadori al 24esimo primo tempo e Di Lorenzo Giovanni al 54esimo gioco del secondo tempo lituania non entra in partita, perde clamorosamente e non riesce a vincere il risultato termina con un 5 al 0 proprio per l'Italia lituania non riesce a fare neanche un gol, l'Italia ne fa 5, ottiene una straordinaria vittoria finalmente l'Italia che volevo, finalmente l'Italia che ho visto negli europei di calcio qualche partita è andata male, le ultime, ma stasera veramente l'Italia è uno spettacolo e soprattutto ha dato grandi garanzie è vero che l'Italia non è forte, non è stato andato per niente forte secondo me ha giocato anche abbastanza male, in mio opinione personale però siamo stati molto bravi, questo va riconosciuto bravo il CT, Roberto Mancini, il video termina qua iscrivetevi al canale, da Radio Italiano commentate ciao a tutti e al prossimo video